Un video spettacolare dell'atterraggio di Perseverance L'atterraggio di Perseverance Prendi degli auricolari e ascolta i primi suoni catturati da uno dei microfoni La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo Averture aprile 1972, ore 8 e 20 di mattino.